Innanzitutto grazie davvero della vostra partecipazione, io non pensavo, noi volevamo fare un congresso sotto tono, tranquillo, tra di noi, mi ha colpito molto, forse c'era la voglia di uscire fuori, di rivederci dopo tanto tempo, però ho notato anche durante la sessione di ieri, abbiamo fatto un remake di quello che avevamo fatto negli ultimi anni, il ritorno ha una certa forma di entusiasmo, ci vuole un po' di visione positiva, perché ne abbiamo passato di tutti i colori, quindi dobbiamo iniziare a vedere nell'ottica, diciamo, verso un aspetto più positivo e magari piangerci meno addosso e magari arrabbiarci anche di più rispetto a prima, forse abbiamo subito troppo in questi anni, abbiamo detto vabbè, tanto passerà il direttore generale, passerà il sanitario, passerà, ma non funziona così, ci sono stati troppi morti, troppi contagiati, troppe famiglie distrutte e non possiamo assolutamente permettere che le amministrazioni ci continuino a trattare male, questa è una cosa inammissibile, per cui vi chiedo molta aggressività nel dovuto rispetto dell'educazione, molta competenza, perché è l'unico modo per poter riaffrontare il nostro servizio sanitario nazionale come principali attori. Ora io ho preparato, la relazione ce l'avete, se non riuscite a dormire magari la notte ve la leggete, ho preparato una sintesi e magari dirò qual è la politica di Cimo, ma soprattutto da oggi in poi della federazione Cimo Fesmed. Voi sapete abbiamo, abbiamo celebrato, stiamo celebrando il nostro 32enne si può congresso nazionale, 75 anni di storia, che sono importanti e sono passati i primi 4 anni della mia presidenza che io dico che ho vissuto in maniera pericolosa, sicuramente con grande intensità e consentiremo anche un grande coraggio, perché ci è voluto tanto coraggio a dire dei no e ci è voluto tanto coraggio ad affrontare delle situazioni davvero importanti. Vogliamo parlare del contratto di lavoro? Noi non abbiamo firmato il preaccordo, è stato un contratto tormentato, è stata una cosa e mi ha stressato più di ogni altra cosa, però il contratto è passato, adesso affrontiamo il nuovo, quindi resettiamo tutto e poi naturalmente abbiamo avuto un problema serio, che è quello dello tsunami, Covid, tsunami Covid che ci ha travolto e ci ha travolto in maniera molto pesante, per cui noi abbiamo tentato di fare il più possibile a fianco dei nostri colleghi un esercito silenzioso di medici che lavorano nei reparti, nelle sale operatorie, sul territorio, nelle autoambulanze, nel 118, nel pubblico, nel privato e questo tsunami che ci ha travolto certamente non è quello dei talk show che vedete oppure dei virologi che vedete in televisione, una volta ho fatto un comunicato stampa chiedendo alla quarantena dei virologi per non vederli per un po' di tempo, perché non ne potevo proprio più, cioè vedendo il collega in pronto soccorso che non sapeva come fare e vedendo, accendendo la televisione, vedendo altri colleghi purtroppo che continuano a imperversare, oggettivamente io non li sopporto più, lo dico chiaramente, non ho problemi. Allora abbiamo voluto lasciare una testimonianza, prima ne ha parlato anche Sebastiano, questo libro, una raccolta di 28 colleghi di tutta Italia, ma la motivazione è molto semplice, mi sono detto, passa il covid, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, tutti si dimenticano di quello che è successo, usciranno dei romanzi, dei film, dei libri da inventare, delle storie magari fasulle e non rimane una testimonianza reale, la testimonianza reale e quindi deve entrare nella storia nostra, della nostra società, è fondamentale perché la testimonianza è quello che poi deve essere tramandata alle future generazioni, ai futuri colleghi, che devono sapere quello che è successo e come è stato affrontato da parte dei colleghi, non è un libro di denuncia, è semplicemente una cronistoria di tutto quello che è successo. però noi dobbiamo guardare avanti e nel guardare avanti dobbiamo pensare al fatto che ce lo impone ovviamente la nostra professione, ce lo impone la nostra deontologia, il nostro impegno e non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo. Oggi voi tutti sentite parlare di resilienza, ma io mi sono detto ma il medico è sempre stato resiliente, con i pazienti si deve adattare ogni volta, con le amministrazioni si deve adattare ogni volta, succede che viene spostato da una parte all'altra, si deve adattare, quindi noi siamo nel nostro DNA, c'è la resilienza, gli altri adesso l'hanno scoperta, noi ce lo sapevamo da tempo. E allora io dico noi siamo medici, facciamo i medici, facciamo terapia, diagnosi, ma nel fare terapia e diagnosi noi conosciamo le patologie e conosciamo molto bene anche le patologie nel nostro servizio sanitario nazionale e se le conosciamo bene probabilmente potremmo essere coloro che danno dei suggerimenti, delle proposte importanti per la politica affinché ci possa ascoltare e renderci partecipi e parte attiva, cosa che purtroppo non avviene. Io l'altro giorno oggi avrei fatto una proposta provocatoria, avrei detto andiamo a occupare l'agenas perché non ci convoca sul fabbisogno di personale. Poi ho visto che ci è arrivata una comunicazione a pochi giorni, attumulazione avvenuta direi io, però non si può lavorare tanti mesi sugli standard, convocare la CGL e altri confederali e la dirigenza medica non viene convocata. Allora vorrei entrare un po' nel concreto. I futuri modelli che ci interesseranno organizzativi sono legati a due aspetti importanti, i finanziamenti e naturalmente le riforme. In un libro dei desideri a me piacerebbe avere una sanità con un finanziamento a tre gambe, no? Fondo Sanitario Nazionale, PNRR, MES, la politica ha detto il MES, non abbiamo bisogno di tutti questi soldi, possiamo buttarli a mare tanto che ce ne facciamo. Sul Fondo Sanitario Nazionale noi veniamo da un finanziamento debole, dal 2014 al 2019 circa abbiamo incrementato del 3,5%, poi un po' il Ministro, un po' il Covid, si era addoppiato il finanziamento, siamo stabilizzati a 121 miliardi e 700 milioni. Però il problema parte proprio da adesso perché ci sarebbe un incremento dell'1%, ora il Ministro ha dichiarato 2 miliardi, 2 miliardi, vanno bene, già vanno meglio, non bene? Già vanno meglio e di questi miliardi di incremento il 15% andrà per mantenere il territorio. Allora mi sono fatto un po' di conti e dico ma se noi incrementiamo di un miliardo e 2, che sarebbe l'1%, togliamo il 15% e rimane il solito miliardo, ne aumentiamo di 2 rimarrà un miliardo e 6, un miliardo e 7. Ma voi sapete quanto costa il contratto del comparto? Un miliardo. E allora se solo il rinnovo di un contratto di lavoro senza considerare la dirigenza, senza considerare la convenzionata e poi volete considerare i farmaci, i presidi, l'assistenza ospedaliera, la sanità privata, cioè che cosa ci dobbiamo fare prima con questi soldi? Nulla. Quindi io sul Fondo Sanitario Nazionale non è che ci faccio molto affidamento perché non mi dà quelle garanzie che cercavo, anche perché questo fondo mi preoccupa per il nostro contratto. Voi sapete il Fondo Sanitario Nazionale viene ripartito tra le regioni e il fondo ricomprende il costo del personale. I soldi vanno alle regioni e allora fra poco inizieremo a inseguire le regioni, iniziere il nostro calvario a inseguire le regioni per vedere se hanno le risorse, perché non vorrei che succedesse come l'altra volta che chiudono il contratto del comparto e poi aspettano anni perché non hanno le risorse per pagare il nostro contratto. E quindi questa è una cosa, è una partita su cui dovremmo stare molto attento. L'altro aspetto è il PNRR, sono fondi vincolati oggettivamente, 15 miliardi a 6 più 5 complementari sono vincolati, però io mi chiedo ma questi soldi qui a che servono? Servono per le strutture sanitarie? Bene, per la sicurezza? Bene, siamo un paese terremotato, va bene. Servono per ricoprire il gap sulla digitalizzazione tra nord e sud, tra l'Italia e i paesi europei? Molto bene, ma se in questo fondo sono ricomprese 3133 altre tecnologie e il fondo e il piano non parla di professionisti? Io che faccio? Acquisto TAC, risonanze magnetiche, di tutto di più, le acquisto, le installo, le inauguro con una conferenza stampa e dopo che succede? Buonanotte, li chiudo. Ah, è arrivato. Scusate, la vado a salutare un attimo. Benvenuto. Io avevo iniziato da poco, la parte critica me la so conservata dopo. Allora, stavo parlando di PNRR, stavo dicendo sul fondo sanitario nazionale, io sapevo che c'era un incremento dell'1%, adesso poi magari ci saranno 2 miliardi, però questo ricomprende il costo del personale, il fondo sanitario ricomprende tutto. Già il contratto di lavoro del comparto costo di miliardo, quindi dobbiamo stare un po' attenti su alcune cose. Poi magari ne discuteremo. Sul PNRR, dicevo, sono fondi vincolati, fondi vincolati rispetto ai quali noi abbiamo una condizione un po' particolare, perché se noi andiamo ad acquistare 3133 grandi tecnologie, ebbene queste 3333 tecnologie senza risorse umane rischiano di non funzionare, per cui noi le acquistiamo, le installiamo e poi non avendo risorse umane rischiamo di chiuderle. Quindi l'appropriatezza non è solo un'appropriatezza clinica, a noi le aziende ci hanno sempre tormentato, dovete essere appropriati a fare appropriatezza clinica, c'è anche un'appropriatezza nell'allocazione delle risorse. Quindi siamo preoccupati in una eventuale cattiva inappropriatezza delle risorse e questo è il motivo per il quale vorremmo essere ascoltati su queste questioni che riteniamo ovviamente importanti. L'altro aspetto, sempre nel PNRR, telemedicina, radiomica, robotistica, intelligenza artificiale, io credo sono degli strumenti molto molto importanti, ma devono far parte di una filiera. Oggi noi abbiamo una sanità fatta a Siros, se avessimo una sanità fatta a filiera, dove c'è un percorso logico, il paziente che va al medico di medicina generale e poi viene diretto verso l'adi, cronicità, ospedale e così via, ci sarebbe l'allocazione delle tecnologie nelle varie stazioni della filiera in modo tale che ognuno risponde a quella tipologia di tecnologia. Quindi questo è importante. Quindi quando nel PNRR io mi trovo di fronte alla mancanza di tre parole, riforma, governance, professionisti, mentre sono ripetitive altre due parole, potenziamento e l'altra parola rafforzare. Ma si dà quasi per scontato che le strutture territoriali funzionano e hanno bisogno di essere rinforzate da un punto di vista economico. Ma oggettivamente questa cosa qui non è che funziona in questo modo qua, perché altrimenti l'ospedale subisce l'influsso negativo e questo influsso negativo è fondamentale perché alla fine che cosa è emerso? Diciamoci le cose chiaramente. Con il Covid è una cosa molto semplice. L'ospedale ha retto all'impatto, i cittadini hanno avuto i loro posti letto, hanno avuto l'omino a guardia del posto letto, l'ospedale forse non è un grande problema, dobbiamo lavorare sul territorio. Credo che dobbiamo lavorare sul territorio e sull'ospedale contemporaneamente, rilanciando e rivedendo le regole dell'ospedale perché ci sono troppe regole rigide che non ti permettono una certa dinamica nel fare determinate cose. Poi c'è il discorso della riforma. È chiaro che bisogna partire dalla prevenzione. La prevenzione è fondamentale, ci vogliono risorse per la prevenzione. La prevenzione non deve essere intesa come un copio e incolla di documenti che poi non si applicano. La prevenzione deve essere attuata e verificata. Una volta che si è verificata, si agisce sul territorio e agendo sul territorio noi dobbiamo tener conto che le 1.288 case di comunità, le 361 ospedali di comunità da costruire, hanno la loro logica. Ma questa logica deve passare attraverso una serie di altre dinamiche di cui noi dovremmo tener conto. Faccio degli esempi. Il costo del personale, 277 milioni, verrà finanziato con la legge finanziaria del 2027. L'altro aspetto che ci preoccupa è che il finanziamento è nella misura del 50% per la costruzione di queste strutture perché l'altro 50% dovrebbe provenire dalla deospedalizzazione. Allora la cosa non mi torna molto, nel senso che io devo deospedalizzare adesso, recuperare le risorse che serviranno per costruire gli ospedali di comunità, che serviranno a loro volta utili per deospedalizzare. C'è un cortocircuito e su questo cortocircuito dovremo magari confrontarci. Intanto è in atto la più grande operazione di task shifting della storia perché noi ci troviamo con, ci troveremo nel 2027 con meno medici in medicina generale da 42.000 a 35.000, gli specialisti meno male che il ministro ha aumentato le borse di specializzazione ed è stato un grande successo dal mio punto di vista, però chiaramente li vedremo tra diversi anni. E questa cosa qui mi preoccupa in questo momento perché se arrivano tutte queste tecnologie avremo TAC senza radiologi, robot senza chirurghi e avremo una serie di altre attività, terapie intensive senza animatori e questo è un altro aspetto. Nel frattempo è iniziata la corsa a occupare i posti di governo clinico perché noi non sappiamo cosa facci dei direttori assistenziali, non sappiamo cosa facci. Noi vogliamo dei professionisti che assistono i pazienti, tutti i professionisti e non sono i medici e naturalmente in questo contesto è fondamentale uscire dalla loggia dei silos pubblico, privato, convenzionato, dipendente, regioni, aziende e così via e creare una sorta di filiera proprio attraverso la filiera dove noi mettiamo insieme le varie professioni, sono i professionisti che devono dialogare tra di loro. Questo significa che il ministero della salute deve riacquistire quella centralità che secondo me è fondamentale per garantire il diritto alle cure di tutti i cittadini in maniera uniforme su tutti i caratteri nazionali. Poi oggettivamente quando mi trovo con l'ADEF che rilancia l'autonomia differenziale mi inizio un poco a preoccupare su questa cosa qui, per cui veramente su questo sono preoccupato, ma non per noi, per i cittadini più che altri perché credo, io sempre credo nel ministero della salute per me è stato sempre il faro e l'obiettivo, ha delle competenze e credo che sia veramente l'unica struttura in grado di garantire e di dare delle sicurezze agli operatori sanitari e ai cittadini. Gli altri giocano sui posti letto disponibili, effettivi, sull'utilizzo dei tamponi, sulle altre cose e quindi poi ci sono interpretazioni dei singoli che poi disorientano anche il cittadino. L'altro aspetto, le modalità di finanziamento dovrebbero essere più trasparenti, nel senso che se nel finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale noi ci troviamo con il costo della siringa, il costo dei device, la farmaceutica, il costo del personale, il costo dell'EA e poi le regioni le utilizzano come vogliono, noi mettiamo in competizione da un lato i cittadini che hanno diritto all'EA e dall'altro lato i dipendenti che hanno i propri diritti attraverso il contratto. Non possiamo ammettere alla fine di un acquedotto dove arriva sempre meno acqua il paziente da un lato e il professionista dall'altro lato, quindi il finanziamento è fondamentale. Intanto si parla poco di ospedale, no? Noi vorremmo rivedere il DM70 perché gli ospedali in questa fase qui devono essere flessibili, moderni, sicuri, tecnologicamente avanzati perché è fondamentale, ma soprattutto l'eccesso di standardizzazione ha fatto sì che il sistema sia diventato talmente rigido che non ci permette di assicurare la necessaria assistenza e questo l'abbiamo visto durante l'epoca Covid, quante migliaia di interventi chirurgici purtroppo sono stati rinviati. Quindi le cronicità, l'oncologia è tutto quello che ne consegue, dovremmo essere noi più flessibili, più aperti sul territorio e magari cercare dei modelli perché tanto le pandemie finiscono ma ne arrivano altri, quindi dobbiamo attrezzarci per il futuro. Poi c'è questo famoso discorso sull'emergenza, no? Ma il settore dell'emergenza è sempre considerato la terra di tutto e di nessuno, però è gravato di problemi seri a fronte alle immigrazioni, ai terremoti, ai disastri idrogeologici, al Covid, un po' a tutto e quindi in conseguenza occorre rivederlo, noi siamo sempre stati per la rete unica e per il ruolo unico dei medici, ma noi vogliamo rilanciare oltre, dal nostro punto di vista, una rete unica presuppone un quarto livello LEA con un finanziamento ad hoc che potrebbe derivare in parte dal territorio, in parte dall'ospedale e rende veramente pregnante il ruolo di medici che sono quelli che secondo me soffrono più di tutti perché sono più ad alto rischio. Ora il discorso... Ora è chiaro che su questo dobbiamo guardare avanti, noi non ci possiamo fermare, dobbiamo essere propositivi e non dobbiamo neanche lamentarci, quindi in conseguenza cosa succede? Succede che poi alla fine se noi abbiamo una visione precisa dovremo anche modificare le regole del gioco, noi abbiamo sempre sostenuto che vorremmo uscire dalla funzione pubblica di fare i contratti con il Ministero della Salute, perché c'è una logica in tutto questo, il Ministero della Salute fa il piano patto della salute, il LEA, gli standard, poi tutti quante i piani delle cronicità, tutte vengono declinate in periferia dalle organizzazioni regionali e le regioni determinano l'organizzazione che poi si ripercuote su di noi e quindi perché non avere un rapporto diretto con chi ci organizza il lavoro? Io ho difficoltà ad avere delle regole che sono simili a quelle dei presidi o dei dirigenti dei Ministeri o di altre cose perché sono regole completamente diverse e su questo noi dovremmo fare una riflessione per il momento chiediamo un settore specifico almeno della dirigenza medica. Ora l'altro aspetto è il contratto di lavoro naturalmente, allora sul contratto di lavoro è chiaro che qui i contratti si fanno dopo dieci anni, il 16-18, questi contratti di lavoro si chiudono alla scadenza, vado a fare l'indagine nelle aziende, su 142 aziende il 98% di queste aziende ancora non ha fatto il contratto decentrato e il 70% delle aziende non ha aggiornato né regolamenti né orario di lavoro, niente. Allora è emersa con chiarezza l'incuria amministrativa nell'assicurare dei diritti che per noi sono fondamentali e nel valorizzare le risorse. Io credo che c'è un limite a tutto su questo, non possiamo più consentire di subire passivamente una cosa del genere. Qui si sta per scadere il contratto 2019-21, ancora non veniamo convocati in ARAN e quindi dobbiamo sempre noi andare a rincorrere gli altri. Chiaramente non parlerò del contratto però tre cose le voglio dire, uno dare certezza attuativa ai contratti che si firmano in ARAN e non si applicano in periferia. Per quale motivo dobbiamo rincorrere sempre e non possiamo avere l'applicazione del nostro contratto, bello o brutto che sia? Questo va dato atto. E poi gli altri aspetti che sono molto importanti, per esempio la libera scelta del proprio legale. Dobbiamo chiedere l'autorizzazione alle aziende e se le aziende non ci danno l'autorizzazione e noi ce lo scegliamo lo stesso, pure se vinciamo le cause ce le dobbiamo pagare noi. Ma per quale motivo? Una cosa del genere. Veramente è qualcosa che va rivista. Ora, noi siamo chiaramente pronti ad affrontare il nuovo contratto perché ci sediamo un po' più forti come rappresentatività avendo fatto questa federazione e ci ho affrontato con grande coraggio e tanto coraggio l'hanno dimostrato anche i nostri partner, cioè Fesmed sicuramente. Abbiamo iniziato con Riccardo Cassi e con Carmi Gigli che ovviamente ringrazio sempre per l'idea che hanno avuto e andando avanti poi abbiamo avuto il piacere di avere anche una storica organizzazione, Ampa, Scoti, Fial, Sam, Desaues che è entrata nella famiglia, quindi nella federazione, quindi ringrazio Raffaele per uno del nostro, Michele, Saccomanno che sono qui in sala e anche gli altri. Ma questo serve per rinforzare la nostra rappresentatività e per rendere più snella il numero di organizzazioni sindacali che si siedono al tavolo contrattuale. E mi auguro che non finisca qui, che si vada avanti e si prosegue a un percorso di aggregazione molto più forte. Nel frattempo abbiamo avviato di nuovo APM che rappresenta 100.000 medici con la FIM, Gesumei e le altre organizzazioni sindacali. Abbiamo lanciato un manifesto che esprime il disagio del mondo medico e questo manifesto credo sia qualcosa di fondamentale perché noi dobbiamo battere molto su due aspetti, la dignità e il ruolo del medico. Quello insomma che in sostanza la FNOM ha definito la questione medica. Io spesso mi chiedo ma oggi quanto vale il lavoro di un medico? Qual è il suo livello di burnout e di stress durante l'emergenza? Qual è il suo rischio professionale? Qual è il suo elevato livello economico come professionista o specialista? In altre parole qual è il rating post naturalmente? contribuire al medico per quanto riguarda la società come ci vede. E allora è scattato un'onda reputazionale durante il Covid. Si è riscoperto finalmente che esiste un rapporto tra medico e paziente che non si era mai spento ma che la medicina amministrata ci aveva fatto rallentare notevolmente. E questo rapporto fiduciario è emerso chiaramente in una serie di indagini. Vi faccio soltanto l'esempio di due indagini che sono state condotte da Euromedia e Censis. Euromedia dice che il 67,5% degli italiani ha fiducia nel proprio medio di famiglia e Censis dice che l'87% degli italiani ha fiducia nelle competenze dei medici ospedaliari e il 91,4% dei pazienti ritiene prioritario conservare il rapporto diretto con il medico anche con l'avvento del digitale e della telemedicina. Allora la politica deve capire che probabilmente i cittadini stanno ritornando verso di noi e stanno iniziando a capire chi nei momenti difficili era presente. Ora vi leggo solo un breve passo, tanto mi avvio verso le conclusioni del Censis. Il Servizio Sanitario Nazionale è l'embrema del pubblico fragilizzato e ora gli italiani si attendono che i medici, i veri garanti del primato della salute, si vedano riconosciuti una nuova centralità affinché in più il servizio sanitario prevalgono logiche ragioneristiche ed extrasanitarie. La professione medica ha ad alto valore sociale ed è urgente dare a questa piena espressione riconoscendo ai medici gli opportuni ruoli direttivi ed economici. Noi lo chiamiamo tesoro professionale e reputazionale dei medici per il nostro Paese. Però intanto dal comma 566 sulle competenze avanzate, al contratto unico della dirigenza, al ruolo degli psicologi nell'ISPDC, alla mitica figura del direttore assistenziale, si concretizza con un disegno ben preciso, dare l'ultima spallata ai medici e concretizzare quello che io definisco il salto di specie di altre professioni non dirigenti naturalmente. Ora la questione chiaramente lega molto il futuro dei medici, i giovani medici. Purtroppo abbiamo visto in questo periodo una serie di cose assurde, durante la pandemia purtroppo abbiamo visto medici oculisti che sono andati nei pronto soccorso, Don Togliate che sono andati in un'altra parte, dermatologi nelle terapie subintensive. Ma io credo che i medici vogliono fare i medici per quello che hanno studiato e non vogliono fare i turnisti a vita. Ne vogliono diventare i pacchi di Amazon e tu li prendi e gli spassi da un'altra parte. Ne devono diventare i piantoni dei posti letto, perché molto spesso per giustificare la presenza del lumino vicino al posto letto tu lo metti lì e dici perché poi legalmente tu direzione stai a posto, poi il medico si prende tutte le denunce del caso. Questo significa, diciamo, l'essere profondo e non a caso il 50% delle borse di studio delle specialità che riguardano l'area dell'emergenza sono date deserte. Ci abbiamo 458 borse di studio che si sono perse e quindi questa è una cosa molto molto importante. Ora, i giovani che cosa fanno a questo punto? cercano di andare via, perché io credo che sia difficile chiedere a un medico guarda, devi fare il turno, poi domani fai il turno, poi fai il turno, fai il turno e non c'è prospettiva di carriera. E poi magari non sono autonomi perché la medicina amministrata li blocca e poi magari sono costretti ad emigrare e andare via perché o sono aggrediti nei pronto soccorso o perché sono subissati di denunce da parte dei pazienti. Il ministro ci ha detto l'altra volta, e io sono ovviamente d'accordo, leggo le parole che il medico non si compra perché la formazione è frutto di anni di investimento e di proiezioni strategiche. E certo, noi non dobbiamo assolutamente disperdere queste risorse. Per non disperdere le risorse dovremmo fare in modo tale che i colleghi che entrano nel Servizio Sanitario Nazionale abbiano delle prospettive. Se ho la prospettiva di entrare in un ospedale, di fare solo turni di servizio da adesso fino a quando vado in pensione, probabilmente sceglierò un'altra strada. Quindi li dobbiamo incentivare e far capire l'importanza soprattutto delle strutture ospedaliere e dei posti letto che sono collegati ad essi. E se la professione poi è declinata al femminile, la questione medica diventa ancora più importante. Sapete meglio di me che adesso le donne mediche sono molto di più rispetto al numero dei medici generali. E chiaramente qui ci troviamo di fronte a carriere che sono inibite, a welfare negato, nessuna flessibilità da un punto di vista contrattuale. Questo è un compito dei sindacati, dovremmo cacciare gli attributi per poter far sì che le giovani donne medico abbiano i loro diritti, la propria possibilità di avere carriera e di lavorare con serenità, perché sono molto più brave degli uomini quando si tratta di fare qualche cosa. Ho finito e passo alle conclusioni. Io vorrei chiarire una cosa per tutte. Non siamo più in uno stato di emergenza. Noi col Covid ci dobbiamo convivere. Ci dobbiamo convivere, ci dobbiamo lavorare con più serenità possibilmente e dobbiamo evitare che ad ogni evento picco si scarica tutto sui professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, perché poi alla fine tutti devono venire nelle strutture sanitarie. Quindi partendo da questo presupposto, che l'emergenza dal mio punto di vista è finita, però dobbiamo essere vigili, noi però vorremmo rispetto per la nostra professione, perché non siamo più disponibili a subire, con la scusa del Covid, disposizioni regionali, unilaterali, oppure mancate applicazioni di contratti, perché dice tanto c'è il Covid, ma non possiamo fare i contratti di lavoro. Dove sta scritto? Potevano fare quel contratto di lavoro con il lavoro agile, con smart working, se volevano. Non l'hanno voluto fare. Quindi, per cui noi siamo decisi e determinati a continuare a fare il nostro lavoro, negli interessi dei pazienti e ovviamente del Paese. Però siamo altrettanto decisi e determinati in ottenere il rispetto ai nostri diritti, perché credo che sia la cosa più importante. Ora non vogliamo più essere ostaggio dei burocrati, di quelli che si chiudono nelle stanze, che fanno la sanità virtuale, che non sanno quello che succede in un pronto soccorso, o in un reparto di detecenza. Il PNR per noi è un'opportunità. È l'opportunità di cambiare alcune cose importanti. Io credo che solo partendo dalla sanità reale e non virtuale è possibile programmare il futuro. E credo che il futuro sta nelle nostre idee. E le nostre idee saranno sicuramente la nostra forza. Grazie. Grazie Guido. Grazie. Grazie. Grazie.